Questo è un grande investimento per la Lombardia, perché questi ragazzi qui hanno la possibilità di vivere bene, quindi di non avere subito problemi anche di benessere psicofisico da dover essere visitati o ricevuti da ospedali, specialisti, eccetera, ma anche nel percorso di crescita, laddove si strutturano dei progetti su ogni singola persona e si intravede per loro delle attività che possano garantire un accompagnamento alla vita adulta. Questo mette in moto un percorso virtuoso che secondo me, oggi come oggi con le difficoltà socio-economiche che ci sono evidentissime, non può essere esclusivo delle associazioni e delle istituzioni, si deve aprire anche a un mondo del privato e del privato sociale.